non so come si trovi non so come si trovi non so come si trovi no, ma esatto vedi tu no, stacchi, un'embo già lì e guarda, c'è sta già lì e tu dice, ma le altre tenere a con noi e tu stessi, lo fai allora, eh niente sono teneci in quattro secondo te stanno qui Questa è la prima fila, prima, seconda, terza, quante avete capito com'è? Ah no, ad esempio è il primo passo qui che vedi qui, appena entri qui a terza. Da molte parti non c'è niente? Sì, c'è stanno la E, la E vedi, E14 è qui, che va bene di quello che è 15, 16, che ne ho?